Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Soleil sorge e Sofie Codegoni, due volti che hanno infiammato e caratterizzato l'ultima edizione del Grande Fratello Vip Sul reale rapporto tra le due ex coinquiline molto si è detto e scritto Ma qual è la verità? L'hanno confessata loro stesse.Loro due volti, giovani e spensierati, hanno lasciato un'impronta profonda nella casa che per sei, lunghissimi ed interminabili mesi è stata il teatro del reality più seguito d'Italia, il Grande Fratello Vip 6 Soleil sorge e Sofie Codegoni Verità appunto le storie che si sono avvicendate nell'edizione più lunga della storia hanno tuttavia lasciato a dito anche ad alcune perplessità da parte del web Amicizie fortissime che si sono sciolte come neve al sole nell'arco di un giorno ed antipatie marcate che sono scociate poi, quasi incredibilmente, in amicizie in periture Soleil sorge e Sofie Codegoni hanno parlato del loro rapporto e si sono scoperte tante cose che le riguardano apparentemente inimmaginabili Quali? Soleil sorge e Sofie Codegoni hanno mentito? Sono giovani, hanno fascino da vendere ma hanno entrambe, soprattutto, una forte personalità Sarà per questo che l'approccio iniziale all'interno della casa del Grande Fratello tra Soleil sorge e Sofie Codegoni non è stato certo dei migliori L'influencer italo-americana e la modella di Riccione, appena entrate nel domicilio più famoso d'Italia, si sono scontrate infatti molte volte Sono da ritenersi quindi due acerrime nemiche? Assolutamente no e lo hanno candidamente confessato nel salotto di Sylvia Toffamim Lo studio di Merissimo le ha messo un accanto all'altra perché le due giovanissime protagonisti del reality hanno parlato della loro vera, grande amicizia A tal proposito, alla domanda formulata da Sylvia Toffamim, è stata proprio l'influencer italo-americana a rispondere prontamente ed in maniera eloquente, sì, sorprendentemente sì Proseguendo ha poi spiegato che a mo' all'interno di quella casa tutto è vissuto ad una velocità elevatissima, anche i rapporti personali Possono nascere inizialmente amicizie apparentemente inscindibili ma che poi non durano ed invece noi ci siamo ritrovate partendo in modo paradossale, ed invece poi ci ha legato tantissimo Sofie Codegoni ha confermato tutto dicendo inoltre che all'inizio Soleil le sembrava antipatica Si sono scontrate non avendo timore di dirsi tutto in faccia ma, alla fine, col tempo è diventata la mia sorellona In tanti, ascoltando queste parole delle due protagoniste del reality, hanno magari pensato di non aver capito nulla o di aver seguito un altro reality Adesso vi è anche un oggetto prezioso che ha sancito la loro amicizia Un anello.Ed è stata proprio lei, la giurata della pupa ed il secchione, Soleil sorge, a sancire ufficialmente questa grande amicizia con Sofie Codegoni attraverso un oggetto che è lì a testimoniare quanto sia vera, sincera e profonda la loro amicizia Un bellissimo anello che ha l'effetto magico di cancellare quelle giornate all'interno della casa dove le due giovani coinqueline sembravano non sopportarsi Ora le cose sono profondamente cambiate e l'amicizia regna sovrana tra loro Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Grazie a tutti